In generale qualunque algoritmo che riuscirete a fare, per esempio per il laboratorio, l'ultimo, sarà sicuramente un algoritmo euristico, cioè qualcosa che dà dei buoni risultati ma non sapete quanto siete vicini all'ottimo. E non lo sappiamo neanche noi, perché non lo sappiamo l'ottimo, a parte per magari i primi casi, quelli piccoli, ma per quelli grandi non abbiamo il modo di sapere qual è l'ottimo. Quindi in questo caso non è una battaglia in cui si raggiunge il 100% dei punti e poi potete mettervela via. Raggiungete l'87,2% dei punti, poi qualcuno può fare 87,23% ed è migliore di voi, poi mettiamo tutto in graduatoria, quindi chi se ne frega. Però il punto è che qualunque epsilon di miglioramento è un miglioramento. Una volta per un articolo abbiamo partecipato a una specie di competizione dell'ESA per trovare, sostanzialmente cercano di ottimizzare il percorso di missioni spaziali, tenuto conto che possiamo utilizzare fionde gravitazionali attraverso i pianeti. Quindi l'idea è questa, tu prendi un razzo, lo punti in una certa direzione con una certa velocità. E questo è quello che fanno tutti i razzi una volta che hanno esaurito la spinta, diciamo. A che punto vanno? Però a un certo punto incontrano Giove e con la fionda accelerano, e poi passano per Saturno, accelerano. Oppure in alcuni casi ti conviene farli andare indietro verso Marte e beccare un'altra accelerata così, eccetera. L'ESA metteva a disposizione il software di calcolo, tu devi trovare i parametri migliori per decidere in che direzione mandarlo e con che velocità, sostanzialmente. Quindi avevi un vettore, direzione velocità, da decidere all'inizio. E la gara a un certo punto si svolgeva sul sesto numero decimale, settimo numero decimale, perché ormai era stato così ottimizzato che non si poteva fare molto meglio di così. Quanto tempo ci mettevi? X giorni, virgola, fino al sesto numero decimale, non cambiava più niente. Quindi dal nostro punto di vista era la soluzione migliore, però arrivava sempre qualcuno, compreso noi, a un certo punto, che avevamo migliorato all'ottavo numero decimale. Capite che dopo un po' chi se ne frega, cioè non cambia assolutamente niente. Quindi, cosa facciamo? Avete un problema da risolvere, ce l'avrete fra tre settimane, non sapete che pesci pigliare? Provate a fare delle soluzioni ragionevoli. Andate in giro sul grafo, appogliete cose, fate, fate, ci stiamo lavorando, dopo scoprirete cos'è. Quello che otterrete non è né ottimo, sicuramente non è ottimo, a meno che non sbagliamo il problema, ve lo diamo in realtà NP, ma non dovrebbe essere. E non è nemmeno approssimato. Non è approssimato perché non avete il tempo di fare una dimostrazione che il vostro algoritmo si è approssimato. Però ricordatevi che alcuni problemi non hanno la possibilità di trovare questa approssimazione. Quindi si usano euristiche. Delle buone idee, ma che non sono corrette, dal greco eurisco, trovare, scoprire. La stessa radice di Eureka. Per esempio, inizieremo con gridi e ricerca locale, che abbiamo già visto. Voi dite, ma quelli risolvevano i problemi. Quando li risolvono, ci si avvicinano. Allora, per esempio, TSP, generale, non con disuguaglianze triangolari. Cortez, edges first. Ordiniamo gli archi per pesi non decrescenti. Aggiungiamo archi alla soluzione seguendo questo ordine, finché non sono stati raggiunti n-1 archi. Quindi ho fatto un bel percorso. Tranne ritornare all'origine. Per raggiungere un arco, devo verificare che non sia formato un circuito e verificare che ogni nodo abbia il più due archi nel circuito. Perché se ne avesse tre vuol dire che sono entrato nella città, ne sono uscito e poi ci sono rientrato e ci devo riuscire. Quindi non va bene, perché io devo entrarci solo una volta, uscire solo una volta. Ok? Quindi, attenzione a questa frase qua, che è importante. Per ciascuno dei suoi nodi non siano già stati scelti due archi. Ok? Vediamo con un esempio. Questo è il mio grafo. Ok? Ordiniamo i pesi in ordine crescente. Quindi il primo da usare sarà questo, perché è un 2. E lo prendo. Perché lo prendo? Perché non mi crea circuiti, cioè non mi crea cicli, e i suoi nodi non avevano archi nel percorso, quindi siamo a posto. Questo lo prendo. Poi ci sono questi due, tre qua, uno e due. Non mi ricordo quale ho preso, però ho scelto questo. Lo prendo perché non crea circuiti e i nodi non avevano archi già presi. Poi prendo l'altro tre. Allora, ancora non ho creato un circuito, vedete? Cioè il percorso fa così. E questo adesso ha due archi, questo ha due archi, ma prima ne avevano uno entrambi, prima di scegliere quel tre. Poi vado avanti. C'è questo 4. Allora, vedete qua, se io scegliessi questo 4, avrei tre archi dal 2. Quindi entro, esco e dopo devo rientrarci. Non va bene. Quindi questo non lo considero. Poi c'è questo 4 qua. Stessa cosa. Ci sono tre archi qui. Ci starebbero tre archi qui. Non lo posso considerare. Ok? Poi c'è il 5. Il 5 va bene se ci guardate. Questo ne ha uno solo. Questo ne ha ancora zero. Quindi lo posso prendere. E vado avanti. Poi c'è il... Ah, sì, scusate, mi fermo un attimo qui. Allora, vedete che a questo punto ho raggiunto n-1 archi, perché ho 1, 2... No, questo l'ho già preso. 3 e 4. E ho 5 nodi. Quindi ho quasi tutto per completare un circuito. Gli altri potrei anche considerarli, ma ricordatevi che hanno peso maggiore. E in realtà io so che sono partito da qua, perché c'è un nodo solo, e sono arrivato qua perché c'è un arco solo. Scusate, anche prima dovevo dire arco. E quindi posso chiudere il cammino. L'ho colorato in blu, ma solo per farvi vedere la differenza. E il costo totale è 21. Ok? Funziona sempre questo algoritmo? Sì, perché il grafo è completo. Tutte le volte che voi scegliete un arco, cioè prima o poi passarete tutti gli archi. E arriveremo sempre a aver scelto n-1 archi. Perché ci sarà sempre comunque un qualche nodo che gliene manca ancora, cioè che ne ha scelto solo uno, e un qualche altro nodo che ne ha scelto solo uno. Ok? E quindi lo prenderete. Non c'è modo di non terminare questo algoritmo. Detto così sembra complicato, però in realtà non è tanto diverso da come abbiamo fatto l'MST, quindi il minimum spanning tree, l'albero di copertura di peso minimo. Prendiamo gli archi in ordine non decrescente, guardiamo che edges di U sia minore di 2, edges di V sia minore di 2, edges è un vettore che mi dice quanti archi sono già stati selezionati per un nodo all'inizio 0. e poi utilizzo la merge find set per verificare che non si creino cicli. Perché se creo un ciclo interno, non ho un ciclo globale. Quindi se è così, non ho creato cicli, lo aggiungo al risultato, che è un insieme di archi, vabbè, aggiungo uno a edges di U, edges di V, che mi serve a dire, guarda che questo nodo ha consumato uno dei suoi possibili archi, faccio la merge sul merge find set, e dopo tutta sta robaccia serve a trovare gli unici due nodi che non hanno già due archi, vedete, edges di V diverso da uno, vado a cercare quelli che hanno un arco, e quando li trovo, lo inserisco come arco finale. Quindi questo è l'arco finale. Questo è tutto quello che vi avevo detto, questo è l'ordinamento, e il resto sono dati che ci servono per gestire il tutto. Costo computazionale? Quanto mi costerà? Quanto costa? Facciamo così. Questa riga qua. Ricordate? Anche voi fuori. Per creare un MF set devo inizializzare tutti i suoi nodi a alberi vuoti, elementi soli, quindi questo costa ODN. questo costa ODN perché è un'inizializzazione. Quanto costa ordinare tutti gli archi? Ricordatevi che, vabbè, qua l'ho scritto in maniera così, però ho una matrice N per N. Devo ordinare tutti i valori che sono contenuti lì dentro. Quindi, N quadro valori, quanto mi costerà? Mi dato una mano? M log M, dicono da fuori, dice Alessandro, però M è uguale a N quadro in questo caso perché ho una matrice completa, quindi sarebbe N quadro log di N quadro che è uno grande di N quadro log N. questa parte qua, invece, tutti questi costano OD1, tutte le operazioni interne costano OD1, quindi tutto questo ha costo O di N quadrato perché lo faccio su tutti gli archi e il resto è ODN e quindi questa è la parte dominante. L'algoritmo costa N quadro log N. Mi faccio quest'ultimo e dopo chiudiamo qui. Questo è un altro algoritmo on gridi. Si parte da una città e si sceglie come prossima città quella più vicina. Si va avanti così evitando città già visitate. Molto più di così può essere un algoritmo, però può già dare dei risultati buoni oppure può costituire la base di quello che vedremo la prossima settimana. Però vediamo un attimo cosa si può fare. Ah, nel senso che io parto dal nodo 1. Dove vado? Al nodo che ha peso minore. Sarebbe questo quindi il nodo 4. Quindi da 1 vado a 4. Però non non mi interessa più 1 perché l'ho già visitato. Quindi qual è il meglio che posso fare? Da 6 a vediamo se corrisponde sì sono andato a 4. A questo punto ho 6 5 e 6. avrei anche 2 ovviamente ma è già stato visitato quindi questa colonna è stata considerata quindi vado qui che è la città 3 e vado da 1 a 4 e poi vado alla 3. Da 3 ho 8 4 e poi avrei anche questo 4 ma io la colonna 1 e la colonna 3 e la colonna 4 sono già state considerate quindi quindi mi ritrovo con sempre meno possibilità e posso lavorare direttamente sul grafo quindi andando avanti vado qui vado qui ho ottenuto quasi un ciclo sono n-1 devo chiudere e lo chiudo con una chiusura finale e ottengo il ciclo ok? E questo di nuovo mi dà come costo 21 questo si può fare in n quadro perché si tratta di saltare sulla matrice e fare questo si può fare in n quadro log n commesso viaggiatore approccio di ricerca locale allora se vi ricordate come vi avevo presentato la ricerca locale vi avevo detto che noi prendiamo una soluzione costruita in qualche modo poi cerchiamo nell'intorno di quella soluzione intorno di una soluzione significa che possiamo modificare la soluzione leggermente senza ripartire da capo perché allora non sarebbe nell'intorno ma proviamo a modificare leggermente quello che è la nostra soluzione per vedere se si ottengono risultati migliori il concetto di intorno dipende dal particolare si vede una barra di controllo il concetto di intorno dipende da problema a problema quindi dobbiamo stabilire cosa consideriamo noi per intorno per ogni problema e non c'è una regola pratica per ottenere questo tipo di considerazione bisogna in qualche modo andare a guardare situazione per situazione allora supponiamo di avere una soluzione al problema del commesso viaggiatore una soluzione al problema del commesso viaggiatore è un grafo è un circuito Hamiltoniano quindi un circuito che tocca tutti i nodi una e una sola volta il circuito Hamiltoniano del grafo completo in cui ogni nodo è raggiungibile ad ogni altro nodo allora consideriamo questo intorno ma è una scelta puramente arbitraria partendo dal mio oggetto pi greco cioè dal mio circuito pi greco ottengo un circuito pi greco primo ottenuto da pi greco cancellando due archi non consecutivi del circuito quindi l'idea è che voi avete un circuito con tanti archi a un certo punto arrivate a due archi per esempio qua e qua questo è uno questo è un altro ma è un circuito quindi si chiude voi li cancellate e quello che vi rimane sono due pezzi di circuito non chiusi c'è un unico modo per ricongiungere questo circuito ed è quello di incrociare le connessioni così in questo modo vedete il circuito è chiuso e se lo faccio in blu vedete che passo di qua poi passo di qua poi passo di qua e ho un circuito a 8 8 più attuale ovviamente quindi l'idea è che scelgo due nodi a caso dopo vedremo come fare un po' più seriamente scusate due archi a caso li sgancio e li ricongiungo in questo modo cosa serve se ricongiungendoli ho abbassato i costi allora sono contento perché ho trovato una soluzione migliore e vado avanti così cercando sempre di vedere se posso abbassare i costi ci sono n per n meno 1 diviso 2 coppie di archi del circuito questo è il limite superiore dato il numero di nodi n di esse sono consecutive ci sono archi che non posso spezzare perché mi ritrovo non con una catena con due pezzi di circuito spezzati ma mi ritrovo con un unico circuito con un buco un po' più lungo ok e quindi in qualche modo il numero di coppie di archi da considerare è limitato superiormente da n quadro e quindi le considero tutte questo ha un costo di n quadro se ottengo un miglioramento lo faccio e ricomincio cerco a vedere se spezzando altri archi in questo nuovo circuito ottengo un miglioramento se ottengo un miglioramento ricomincio vado avanti così finché non riesco più a migliorare allora se vi ricordate il disegno che avevo fatto in cui dicevo c'è una funzione con dei minimi e dei minimi locali eccetera quello che sto facendo è questa è una cosa bidimensionale ovviamente è quello che posso fare in una slide però l'idea è che voi vi state muovendo nello spazio dei possibili circuiti andate in una direzione seguendo il percorso che vi porta verso il basso se stiamo utilizzando con minimizzazione quando raggiungete un punto del genere avete finito ok ci sarebbe un altro tipo di possibilità che è bene adesso ho messo da parte questa soluzione è buona ma non è ancora l'ottimo e non sono sicuro se mai riuscirò a trovare l'ottimo però posso provare ancora come partendo da un'altra soluzione ancora mettiamo che sia qua e seguendo gli intorni che mi portano verso il basso fino ad arrivare a questo quindi partendo magari casualmente da un altro punto dello spazio e poi riprovo magari mi trovo qua e trovo la stessa soluzione arrivo qua e mi fermo vado avanti per quanto per quanto sono disposto ad aspettare perché se poi sono fortunato e finisco qua ottengo una soluzione ancora migliore e poi ce n'è una ancora migliore non lo so però magari qua la cura avanti ce n'è una ancora più bassa però non lo saprò mai ok perché se potessi saperlo in tempo polinomiale avrei un algoritmo polinomiale quindi dopo vedremo più avanti gli algoritmi probabilistici non è così da fuori di testa di dire parto invece da un grafo cioè da una soluzione ben fatta parto da una soluzione casuale schifosissima ma comunque una soluzione possibile che cerco di migliorare tramite ricerca locale quindi vediamo questo esempio qua allora vedete che ho i vari pesi i soliti sono lo stesso esempio ho costruito un circuito molto come dire banale ho semplicemente fatto 1, 2, 3, 4, 5 è sicuramente una soluzione possibile e come potrei fare a trovare altre soluzioni casuali da cui partire cosa potrei utilizzare per come come meccanismo questa è una soluzione casuale da cui partire non è tanto casuale è 1, 2, 3, 4, 5 cos'altro potrei fare anche da voi fuori come è fatta una soluzione del commesso viaggiatore come la posso descrivere è una permutazione di nodi ok qualunque permutazione è un possibile percorso era il mio problema originale avevo bisogno di provare tutte le permutazioni che sono n fattoriali sono troppe quindi un modo per partire a caso è fare un shuffle che significa prendere un insieme di numeri e scombinarli a caso l'importante è che resti una permutazione e che non venga ripetuta più volte una città ma quella è una possibile soluzione noi siamo partiti da questa a questo punto vi faccio vedere io potrei sganciare questi due archi quello col peso 7 e quello col peso 5 in realtà li provo tutti però intanto provo questi ok allora cosa succede vedete che l'unico modo che ho per ricongiungere è allora questo il nodo 4 non può più collegarsi a qua al nodo 3 perché è esattamente l'arco che ho sganciato quello che può fare è utilizzare questo ok e lo ricongiungo il nodo 5 ha lo stesso problema non può agganciarsi all'1 si ricongiungerà al 3 ma vedete che questo tipo di ricongiungimento è deterministico ogni nodo di un arco si collega con un altro nodo dell'altro arco e quello che ottengo è questo grafo prima non l'ho detto questo circuito prima non l'ho detto il costo di questo era 25 dopo aver fatto questa operazione il costo è sceso a 23 e va benissimo perché ho ottenuto un miglioramento a questo punto cosa posso fare faccio la stessa operazione con altri archi per esempio questi due in particolare questo che rompe un po' le scatole pesa 8 ok quindi se io faccio lo sgancio e dopo li riaggancio ottengo questo perché ho tolto questo 8 qua e l'ho sostituito con questo arco qua probabilmente se mi ricordo bene ok e il costo è sceso a 19 che tra l'altro credo sia il migliore che posso ottenere da questo particolare grafo che ho qui ma io non mi fermo vado avanti però dopo aver provato ad andare avanti non riesco a migliorare che non significa che non ci sia un percorso migliore significa che questa tecnica non mi porta oltre questo risultato e o mi fermo o riparto da caso a caso da un altro grafo e cerco di migliorare quello dopo un po' che non vedo miglioramenti smetto perché non ne vale più la pena quindi per riassumere questa parte un'euristica questo l'ho preso da Jeff Erickson è un algoritmo che non funziona a parte in pratica a volte forse nel senso che questo ci porta in un'area completamente diversa dell'informatica che avete frequentato poco finora perché avete visto l'informatica soprattutto come una branca della matematica nel senso che quando vi spieghiamo cose tipo complessità computazionale è ovvio che lì la parte teorica matematica formale è importantissima l'avete vista come una branca di ingegneria nel senso che avete visto state vedendo sistemi operativi più tardi nel pomeriggio e dovreste aver già iniziato l'ingegneria del software e così via se mi ricordo bene comunque l'idea è che quello che prendete l'informatica non come una materia teorica relativa all'informazione e la computazione ma come una materia pratica dove si vogliono risolvere dei problemi poi c'è la terza branca che è quella scientifica in cui diventa sperimentale voi dite in che senso sperimentale io scrivo un algoritmo poi prendo dei data set questi data set devono essere realistici perché è inutile che faccio l'algoritmo migliore del mondo su un certo tipo di grafo che poi non si presenta in realtà no voglio dei grafi come per esempio potrebbero essere una rete di città vere ok non una rete di città che non gode della disuguaglianza triangolare per esempio e esperimento eseguendo il mio algoritmo sui dati vedendo quali sono i risultati cercando di identificare intervalli di confidenza eccetera eccetera cercando di capire se l'algoritmo che ho sviluppato è buono in pratica oppure no è per questo che c'è questa sottolineatura qua in pratica perché spesso volentieri vogliamo comunque ottenere dei risultati e l'approccio che utilizziamo a volte è più scientifico che ingegneristico quindi come ci lasciamo a questo punto adesso vi faccio vedere un'ultima tecnica però l'idea è quando non avete molto a vostra disposizione nel senso che avete bisogno di risolvere un problema e non sapete come risolverlo quello che abbiamo visto gridi programmazione dinamica fino a un certo punto ricerca locale eccetera eccetera sono tutte tecniche che ci possono avvicinare alla soluzione ma non ci porteranno per questo tipo di problemi intrattabili alla soluzione stessa